e wild boys welcome back il weekend ci ha restituito un mercato cripto in difficoltà bitcoin è sceso anche sotto i 19 mila dollari nella giornata di oggi ethereum vedete che negli ultimi settimane dopo il merge praticamente ha perso quasi il 25% veramente una cifra altissima c'è avvenuto quello che molti anche si attendevano il classico come mai c'è stato quest'ulteriore dump nelle ultime 24 ore la notizia che c'è il mercoledì alla 9 di sera dovrebbero uscire i dati della fed riguardo al FOMC ossia la previsione sul rialzo dei tassi di interesse e c'è un'attesa per un maxi rialzo inizialmente si pensava che l'aumento fosse solo di 50 punti base mentre ora il mercato sta apprezzando una stretta fino ai 75 punti base c'è anche chi non esclude un rialzo fino a 100 punti base appunto della fed ma in questi sette giorni ultimi sette giorni c'è anche invece una moneta che ha salito del 20 21 per cento e stiamo parlando di chilis come mai chilis ha rilasciato una carta di debito partnership con socios e si possono trovare più informazioni appunto sul sito de socios.com e la carta di credito è stata disegnata per dare una ricompensa ai fan che partecipano all'ecosistema. Inoltre sempre chilis in questi giorni ha annunciato anche delle nuove partnership per esempio con UFC che è la lega di combattimenti in MMA e anche poi ci sono dei stati dei nuovi listing per esempio in Brasile mentre la negli ultimi sette giorni la moneta che ha perso di più quasi 50 per cento è terra terra l'uno anche lung classic come mai lo vedremo tra un attimo intanto ricordo i nostri canali della community questo è il profilo twitter at the wildcard poi qui trovate il canale youtube la chat telegram dei wild voice e il nostro discord vi invito naturalmente a descrivervi se ancora non l'avete fatto prendo spunto da ambrosap che twitter giornalmente le daily crypto news così in un tweet si può sintetizzare quello che sta succedendo nel mondo cripto e vediamo che appunto c'è stato questo crash di bitcoin ed ethereum ma soprattutto anche la notizia del giorno che è arrivata una richiesta d'arresto da parte delle autorità della corea del sud per do kwon appunto il founder di terra luna da qui anche il dump del 50 per cento del prezzo anche se do kwon in persona smentisce lui dice che non è in questo momento sotto una sotto richiesta di da parte diciamo del governo coreano non è appunto on the run quindi non non è ricercato ecco scusate mi avevo perso la parola lui smentisce tutto però le rumors invece dicono il contrario staremo a vedere come naturalmente come si evolverà la vicenda e le altre notizie sono che tra pochi giorni questa settimana il 23 di settembre cardano è pronta per il suo hard fork di vasilar fork e cosa significa questo vasilar fork qui ho messo un po' il traduttore google traduttore quindi prendetelo un po come viene praticamente però per sintetizzare tra le varie modifiche che verranno fatti con questa implementazione quelle più importanti sono la maggiore velocità delle transazioni una maggiore efficienza in termini di costi questo è in sintesi i grandi più grandi cambiamenti con questo vasilar fork che comunque il questo vasilar fork in realtà fa parte appunto nel progetto della roadmap di tutto un nel punto di tutta un'evoluzione perché cardano attualmente nell'era basso della roadmap e punto l'era basso la fase in cui si punta alla ottimizzazione della nella migliore scalabilità oltre alla interoperabilità della rete la lase il vallar fork di vasil porterà appunto a queste migliori prestazioni vedremo se anche per quanto riguarda cardano tutto procederà bene per il suo hard fork mentre invece per quanto riguarda la forza di ethereum c'è stato dopo c'è stato il merce il passaggio da la proof of work alla proof of stake però i miners alcuni sono rimasti su sulla versione proof of work hanno forcato la 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 chain non bastava giustamente ethereum classic che già era ethereum era su proof of work e questa nuova c'è in proof of work ha avuto un attacco un replay un replay attack sono stati exploitati di 200 ethereum ne ho parlato nell'ultimo video di questa possibilità di questi attacchi replay e infatti puntualmente è successo è successo sul bridge che ha avuto questo questo attacco e il prezzo poi del tuo che è anche sceso del 37 per cento praticamente cosa è successo ce lo dice anche in questo tweet blog sec il sul bridge da un bridge che collegava la l'omni bridge sulla 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 gnosis chain praticamente hanno replicato una transazione una transazione di prelievo sia sulla c'è inforcata che sulla c'è principale usando lo stesso id il bridge non aveva aggiornato l'id questo appunto è il problema di questi questi attacchi replay che vanno a replicare lo stesso tipo di transazione per esempio prelievo l'invio sia sulla c'è in principale che sulla c'è inforcata se non viene cambiato l'id o il non sei questo in pratica è quello che è successo non scendo troppo nei dettagli questo era anche uno dei rischi del merge del mandare a vendere gli svuopare gli ethereum dal proprio wallet mentre chi lo faceva da exchange non ha in teoria avuto problemi ma nel frattempo il prezzo di ethereum prof of work è sceso a circa 6 dollari dopo che era partito al lancio attorno ai 30 dollari come dice anche in un video di finance with axel un video uscito un paio d'ore fa sul suo canale sempre video interessanti tra l'altro quelli di finance with axel lui praticamente dal suo wallet racconta in questa storia aveva inviato ad ftx il ethereum prof of work che aveva ricevuto come er drop per vendere da un parli subito ma praticamente ftx non li ha accreditati sul conto nonostante sulla blog chain risultassero le la transazione approvata praticamente lui dice nel video che ha parlato con la hotline con con la loro aperto un ticket e la risposta è stata che ftx non supporta e tire un prof of work nonostante in realtà lui abbia ricevuto un address ethereum per il deposito e tire un prof of work e si è aperto il trading su ftx per la coppia tiro prof of work con per esempio delle stable coin per lo scambio quindi lui dice che probabilmente sono stati lui è stato scammato perché la dicono dal 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 supporto che in pratica non hanno ricevuto niente che non supportano la chain questi fondi praticamente sono dati persi lui dice che praticamente se li stanno vendendo quelli di ftx il riporto quello che dice finance with axel nel suo video personalmente io avevo degli ethereum su ftx che ho e li ho ho ricevuto l'air drop e l'ho subito sono dato a suo parlo con ethereum e quindi da quel lato non ho avuto problemi ma non ho fatto il versamento dal mio wallet a ftx quello no vi segnalo soltanto questa problematica interessante finance with axel comunque una persona diciamo che non di non dice stupidate guardate anche i suoi video sono abbastanza serie quindi non penso che l'abbia fatto un video così tanto per farlo riguardo questo problema perciò mi sembrava giusto segnalarlo e infine anche un aspetto della giornata è stato l'exploit su gmx un po il protocollo delle ultime settimane di cui tanti ne hanno parlato hanno sofferto appunto di un exploit qui prendo spunto da questo articolo dico in telegraph italia praticamente dico cosa si tratta anche qui si rischia un po di entrare nel tecnico con un sistema di arbitraggio nella coppia avax usd questo proprio il profilo twitter dgmx loro stessi si sono accorti che praticamente il qualcuno è andato a prima long poi short sulla coppia e approfittando della dell'arbitraggio che praticamente era a zero con zero slippage praticamente mentre su due ecco qui trader x visto che su due piattaforme e venivano tradati con prezzi diversi è andato a prendere delle posizioni grandi prima in un lato poi nell'altro per estrarre poi un profitto importante ecco non entro troppo nel tecnico comunque vi segnalo appunto questo exploit anche qui il problema era appunto zero bassa liquidità e per con che questo ha permesso appunto la realizzazione di questa problematica volevo semplicemente chiudere questo video ricordandovi che c'è la possibilità di ottenere un nft un nft per chi un nft celebrativo del merge basterà connettere il wallet al sito merge the merge scusate merge.consensus-nft.com slash claim lascio il link in descrizione e praticamente appunto collegando il proprio metamask si può pagando le gas fee per il minting si potrà ammintare gratuitamente gratuitamente nel senso che non ci sono costi extra oltre alle gas fee per appunto aumentare questo nft celebrativo del merge osservate sempre quanto sono le gas fee per esempio quindi ecco lo potete vedere quando i way sono livello basso quindi come adesso 17 way sono abbastanza basso quindi pagate poche commissioni verificate anche sempre queste informazioni che per esempio merge consensus nft come faccio a verificare se veramente si tratta di un airdrop legit per esempio su twitter scrivete merge consensus scritto in questo modo nft airdrop e andatevi a leggervi tutte le recensioni che vengono fatti sul punto su questo airdrop se sono veri se sono un fake e guardate appunto tanti profili twitter se ne parlano se confermano che in effetti c'è questo è troppo vedete tanti punto profili che potete anche ricercare appunto nelle notizie più recenti che appunto danno una conferma che c'è questo airdrop è legit non è un fake fate sempre le vostre ricerche prima perché sapete che girano sempre tanti airdrop fake